Si è svolta questo fine settimana all'interno del Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli la consegna del premio Serao 2022. Nella terza giornata del Campania Libri, il direttore del Quotidiano Il Mattino, Francesco Decore, ha dato il benvenuto ai protagonisti della premiazione letteraria, evento a cui hanno preso parte anche figure del mondo delle istituzioni, delle imprese e della cultura locale. Dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi all'assessore regionale alla formazione Armida Filippelli, dallo scrittore Maurizio De Giovanni all'imprenditrice Anna del Sorbo, presidente per la piccola industria dell'Unione Industriale. A ricevere il premio Serao per la letteratura quest'anno, la già vincitrice del premio Pulitzer Jumpa Lairi, londinese figlia di Bengalesi, autrice di racconti romani. L'italiano è ormai diventato la lingua della creatività, per me ha dichiarato l'autrice. Ormai scrivo da dieci anni in italiano, una lingua in cui mi sento sia a casa sia fuori luogo. C'è questa doppia realtà che secondo me mi fa molto bene. Orgoglioso per l'evento, il direttore del mattino Francesco De Core, che ha commentato così il ritorno in presenza dell'evento. È stato un momento importantissimo per il giornale, per il rapporto con la città, nel ricordo di Matilde Serao in questo splendido scenario del teatro di corte. Rivederci vis-à-vis è stato fondamentale, come molto bello premiare una scrittrice come Jumpa Lairi, che ha fatto della multiculturalità il suo punto focale da genitori bengalesi, nata a Londra, trasferita sì negli Stati Uniti e poi in Italia, dove addirittura ha adottato la lingua italiana per i suoi racconti. Quindi il massimo della bellezza e della contaminazione è l'esempio che il premio Serao guarda oltre Napoli senza dimenticare la città. Grazie.